Bentornati ancora nel mio studio. Questo piccolo video vuole illustrare una linea molto particolare, l'ho chiamata linea blu. Sono dei piccoli quadri realizzati ad olio su tela, 18x18, e hanno diverse misure di altezza, in alcuni casi 2 cm, in alcuni casi 4, ma comunque in via definitiva ho cercato di fare 3 cm di altezza. Sono quadri di diversi soggetti, dal paesaggio classico alle barche a vela, solo vedute di mare. La particolarità appunto di essere realizzati o su una struttura da 4 cm o come altre strutture da solo 2 cm. Il fattore di essere 18x18 è perché l'ho pensato come collocazione in qualsiasi punto, e poter fare diversi componimenti e come idea anche a regalo. Bene, nel video che vado a sviluppare vedrete i diversi soggetti nelle diverse possibili soluzioni. Linea blu è una proposta, un'idea che è emersa diciamo da alcune perplessità di molti clienti che non avevano più spazio dove collocare i quadri. Ma si è rivelato una cosa molto vincente anche perché un piccolo pensiero, una piccola regalia che si vuole fare o un regalo che ci si vuole fare, può essere ben apprezzato e vedo che è molto accettato questa idea del 18x18. Bene, ora non vi resta che dare un'occhiata a tutto quello che è il panorama della linea blu, ma non solo, sono sempre eseguibili i quadri personalizzabili su richiesta. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!